Musica Detto ciò, the last game Perché poi ragazzi ho lezione di scacchi E già, una lezione stavolta che prenderò io Maestro, buongiorno, buongiorno a lei Buongiorno a lei, va bene Mi era stata chiesta da stellato la La moderna, quindi gioco G6, alfiere G7 E poi faccio D5 e C5, vediamo un attimo Comunque, come vi dicevo L'istruzione è sempre importante Quindi Io stesso voglio ancora migliorare, no? Per questo prendo lezioni Le do e le prendo La moderna comunque ha un'idea di reazione al centro Un po' più lenta Però molto interessante Andare a giocare con D5 e con C5 Per andare a rompere su D4 Cornelia Waldorf Vabbè, qui ragazzi mi hanno lasciato un pedone Proprio lasciato sotto Così Niente, non riusciamo a fare l'apertura Non riusciamo H4 Beh, è giusto È giusto La sua idea è interessante Io vado a giocare con H5 Gli tolgo tutta questa possibilità Di andare a giocare contro F7 E... Wind Gambit Wind Wind Gambit Scusatemi, Wind Ma... Esiste Ma ragazzi io giocando su chess.com Sto scoprendo cose incredibili Che esistono Mh... Aperture che fanno Veramente schifo Ed esistono Qualcuno le ha teorizzate Allora, qui posso giocare anche D5 Perché tanto non c'è nessun attacco di scoperta Quindi gioco D5 Mh... Se mi fa il fire B5 era Posso giocare C6 Se prende, prende Vado a giocare contro G2 Ok, giusta la sua idea E... Va bene Cavallo F6 No, prima prendo Ok E cavallo F6 Sono curioso ragazzi Sono curioso di rivedere queste partite Di capire se... Di capire se realmente c'è... È roba che si potrebbe giocare Giocata meglio di così intendo Chissà 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 Hai provato a inventare un'apertura? Sì Assolutamente sì Più che un'apertura è una variante Però io appunto come più volte ho detto Non ho un amore per le aperture Ehm... È la parte del gioco che mi sembra un po' più noiosa Non lo so Anche se alle volte è molto divertente Dipende Dipende da cosa si gioca Allora Io qui Mi aspetto poi dei sacrifici Quindi Vado a giocare con Donne 7 Al fiore di 7 Al fiore di 7 Al rocco lungo Direi Così non ci sono Problemi Diciamo Per non saperne leggere Né scrivere Mettiamola così Perché appunto Ci potevano essere Delle idee in aria Quindi preferisco Giocare molto Tranquillo Sì Quella con la 6b5 Giusto? Mi sembra si chiami San Giorgio Ehm... Sì, sì, esatto Anche... Ehm... Quella... Come si chiama? Ehm... VH1 Cosa del genere Ehm... Ehm... L'apertura è un'apertura Chissà, chissà Beh... Ai posteri Le due sentenze Direi Comunque Ehm... Sì, l'ho anche giocata Qualche volta L'altra volta Me l'hanno giocata contro Non so se ti ricordi Che ho preso un pezzo subito Che ho vinto Velocissimamente Ehm... In pratica C'è questo aneddoto Simpatico Che la giocò Ehm... La giocavo Un GM Ehm... Non mi ricordo chi Ehm... Ubriaco Contro Carpov E vinse E gioco alla San George Che ignorante Ok Ehm... Una cosa, sì, sì Una cosa pazzesca Rudy Peer Mi senti Polacco, no? No, indonesiano Scusate Qui ho avuto Un attimo Di misunderstanding Dovrei vedermi Impariamo con le bandiere Com'è Divertiamoci con le bandiere Ehm... Ok, prendo... Prendo... Prende Alfiore di 7 Mi arrocco Non ci sono problemi Anche perché Comunque Attaccare non lo vedo facile Ehm... Ehm... Con che idea Questa mossa Ok, non lo so E su questa Ci può essere già Cavallo E5 Ok, ok Allora ho intuito l'idea Che è scorrettissima Perché in pratica Il mio avversario Si è dimenticato Di questa inchiatatura Quindi dopo Cavallo per B4 Alfiere per In pratica Il vantaggio è netto E se non la dovesse giocare Cambiare Il cavallo per l'alfiere in batteria È molto forte Infatti non so se vi è mai capitato Ma tantissime volte Nel più dei casi Cambiare il cavallo Con l'alfiere in batteria Con la donna Quindi facendo una sorta di Lasciatemi passare il termine Doppio Tra donna e alfiere in batteria Prendendo l'alfiere forzatamente È qualcosa di eccezionale Ok Il mio avversario ha capito Se mi dovesse giocare Dove B1 C'è cavallo C5 Intermedia Alfiere C6 Purtroppo Siccome c'è scacco Non posso giocare altre robe Se fosse stata Altra torre Praticamente avrei guadagnato Materiale Ok Presa Presa Ora l'idea Vi dico banalmente È provare questo Prima però Fasso un alfiere F6 Ok È donna di 7 Oh no ma non posso farla Che dico Carina questa deviazione Carina Allora Per andare a prevenire il tutto Giocherei così A questo punto Mi sa Quindi faccio la 5 E poi B6 Con l'idea di portare l'alfiere in fianchetto La batteria rende un alfiere buono ancora più buono L'alfiere di doppia è tipo il Don Boh Così non te lo so dire Dipende dai casi Mettiamola così Però Mi piace comunque Cioè non è una definizione scorretta Assolutamente Dipende dalla posizione Di solito potrebbe essere Però non Difficile dirtelo Come assolutismo Ok Però ora io posso prendere E poi giocare Donna C6 Esatto Tanto su Donna B5 Prendo Prende E gioco B6 Ok Lui mi ha giocato Questa Tove D4 Tove D4 E poi dove sa lì Potrebbe provare C5 Ma su C5 comunque c'è Tove B4 Quindi diciamo che la partita ormai Volge alla fine Ehm Vi dico che oggi mi sento un po' più stanco del solito Saranno le feste Che portano stanchezza Che portano soprattutto idea di vacanza Ehm Vabbè dai Un Tove D4 Tanto per farlo La faccio Non è una reale minaccia Cioè non c'è niente Tranne che mi giocare H2 Ehm E Tove D4 E Tove D4 Con idea di questa Con questo Comunque potrebbe essere sotto Diciamo che La vittoria Si avvicina Quella non è una Tove È una morale È vero È una Tove fortissima Troppo forte Ma infatti attacca tutto E difende pure tutto Ehm Era la Tove dei sogni Allora lui qui sta provando Ad entrare al Minasette Che è un'idea che vi dico Che secondo me Ci sta Assolutamente Ci sta Vuole provare a complicare E questo è un modo giusto Per complicare Ora qui devo trovare Il modo Più forte Ehm Che alla fine Non c'è matto Questo è il problema Posso giocare Donna a D5 Minaccio questa Andando qua E qua Ok lui se ne è accorto Donna a D6 Scacco E andrei di donna a C5 Perché o mi cambia Oppure Praticamente perde Subito Si prende subito matto Crearti il pedone passato in colonna Potrebbe evitare Deviare e darti il vantaggio decisivo Allora il discorso è quale Io già sono in vantaggio decisivo Però Ehm In pratica la cosa che Semplicemente devo fare È cambiare i pezzi E fare tutto questo dopo Cioè In una posizione del genere Quando avete un vantaggio Così Non vi dovete prendere matto Cioè E invece Al contrario Dovete provare a complicare Il più possibile Allora Ci può essere questa intermedia Però non sono sicurissima Cioè Intermedia Nel senso Questa Con l'idea che Ehm Con l'idea che è Suppresa Donna F5 Re via E poi Donna per Però In realtà Non so neanche se era più forte Forse questa è semplicemente meglio Che l'idea è che Se fa F3 Posso giocare C2 E poi entrare Comunque State dicendo Cose abbastanza interessanti Sono belle domande Secondo me Pian piano Stiamo prendendo confidenza Buono così Buono così Ragazzi Probabilmente Le mie minchiate Le vostre minchiate Si stanno unendo Facendo una minchiata suprema E questo È qualcosa di molto Molto utile E interessante Ehm Comunque Torre C2 Idea Quella che vi dicevo prima Donne 4 E a questo punto Aveva Matto in 2 E il mio avversario Comunque C'è da dire Che qui ci ha provato Ho fatto bene Cioè questo Era proprio un caso In cui lui doveva giocare Perché Insomma Potevo sbagliare Potevo sbagliare Tranquillamente Ridiamo un occhio In pratica Questa io non credo Sia per niente corretta Perché comunque Lasciare un pedone sotto Ci potrebbe essere Un po' di compenso È vero Ma Non sono sicuro Quindi non vi Mettiamola così Su questa Sospendo il giudizio A istinto Non mi piace Però se esiste Un gambetto Potrebbe essere Che la variante Sia buona Potrebbe essere O che comunque Ci sia almeno Qualche linea interessante Dopo che ho preso il pezzo Lui ha provato Adattarmi questo attacco Con H4 Per fare H5 Mettiamo caso D6 H5 Che comunque Rompe le palle Quindi innanzitutto Qui preveniamo E cavallo Con H5 Noi E dopo cavallo H2 Però D5 Già qui La posizione Va a mettersi Bene Niente Sono andato Un po' avanti Ora Però in pratica Poi dopo Soprattutto dopo B4 La partita È abbastanza Chiusa Poteva provare A fare forse Tove B1 Con la stessa Idea Ma il suo attacco Comunque Mi sembra un po' lento Anche perché Io potrò andare A giocare al centro Giocando E5 F5 E poi In caso Anche E4 Quindi secondo me In realtà Purtroppo Il D3 Non sembra funzionare Anche se La mossa più strana Sicuramente È quel cavallo In H2 Che cosa ci fa Il cavallo qua Soprattutto Se ti vuoi A toccare corto Non ha tanto senso L'idea sarebbe Spingere in G4 Ma questa ragazzi È un'idea Troppo utopistica Mosse del genere Evitatele Consiglio Spassionato E se dovete Attaccare Attaccate Pian piano Andate a costruire Una tranquillità Anche col pedoni in meno E ora Per continuare Che cosa posso fare? Beh Innanzitutto Ti consiglio Di iscriverti Al nostro canale In modo tale Da non perderti Le nuove video lezioni E poi Puoi vedere Il video Che è stato Più cliccato In questa settimana Ci vediamo Ciao Ciao